NLT, diapositiva precedente diapositiva 1 di 7 diapositiva successiva NGT, il presidente della regione Lombardia Roberto Maroni, S, il presidente del CONI, Giovanni Malago, e il sindaco di Milano Giuseppe Sala posano per i fotografi durante la presentazione della candidatura di Milano ad ospitare nel 2019 la 132esima sessione del CIO. Il Comitato Olimpico Internazionale, 15 marzo 2017, ANSA, Matteo Bazzi Roma, il 2017 è stato l'anno record dello sport italiano. Non abbiamo mai vinto costanti titoli mondiali individuali in discipline olimpiche. Come vedremo a Martid prossimo alla cerimonia di consegna dei collari d'oro. Quanto annunciato dal presidente del CONI, Giovanni Malag, nel suo intervento all'incontro di fine anno delle fiamme gialle. In corso al Salone d'Onore del Foro Italico. Lo diremo anche al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Quando il 18 dicembre andremo a ritirare il tricolore. Per le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018. NDR. Ha concluso Malag e lo vedremo anche il giorno dopo quando con il premier. Paolo Gentiloni. Consegneremo le palme e collari d'oro al merito sportivo. Altro su MSN. Bebevio racconta Bebevio. Corriere TV. Sponsorizzato. Offerta di Natale. Pacchetto Surf Esproi 5 più tastiera a soli 979. Acquista maggiore maggiore.